Allora, dottor Musci, ormai si sta profilando una vittoria quasi in etna, una riconferma del sindaco Spina. Qual è il suo commento? La vittoria ormai si può dire che è confermata, quindi colgo l'occasione per fare i migliori auguri e le congratulazioni a Spina, vincitore di questa competizione elettorale. Adesso l'augurio che posso rivolgere a Spina da cittadino comune è che prima di tutto possa assicurare che la sua legislatura durerà cinque anni e che non ci siano canti di sirene che possano tentarlo ad andare altrove. E seconda cosa, che possa realizzare tutto quello che lui ha enunciato nel suo programma. Bene, un'altra domanda che volevo porle è proprio riguardo alla sua coalizione. Si aspettava qualcosa di più oppure non queste le indicazioni che già aveva prima delle elezioni? Onestamente non potevamo ambire a grossi risultati, anche perché la mia coalizione è nata soltanto nei primi di aprile, quindi in confronto di altre coalizioni che stavano lavorando da un anno non c'era possibilità di competere. Poi una partita 18 contro 2 è una partita difficile a vincersi, però non nascondo che forse un qualcosa di più me lo sarei anche aspettato. Però accetto il risultato così come è venuto e colgo l'occasione per ringraziare tutte quelle persone che hanno espresso fiducia con il loro voto sia alla mia persona sia alla coalizione che rappresento. Grazie.